Non so se sono loro che cosa. Ma che spettacolo? Guarda, ci sono uno e due, uno in fila d'altro. Prova, guarda se sono loro. Nel codito, aspetta. Oh, che bello. Sono loro? Beh, anche questo non è male. Eeeh, in del va. Che bello. Guarda, Enrico l'ha trovato. Ci ha provato a guardare. L'olio è ancora un costone di neve. La spalagata. Sì, sarà in quattro metri. Da sto canale qua. Tutta neve, tutta coperta di terra. Sì, vabbè, rimane qua fino al prossimo inverno. Sì, vabbè, è l'azorto della padella. È proprio neve. Tonnellate, tonnellate di... Tonnellate di... E ne ha fatta quest'inverno. Ah, che gambotto. Madonna, che fungo. Trovato il gambo, eh? Sì, sì. E' un spettacolo. Ma va bene questo. Ma c'è un padellone. Sì. Fariamo seccare. Ma questo... Questo qua è... Un fungo della madoncina. Che è, Dulis. Ma guardate sto fungo. Maturo, eh? È da far seccare. Ma... È sanissimo. Un altro pistolotto. Fa croc. Ah, che bello. Bello lustro, perché c'è la testa bagnata. E questo è proprio fresco. Questo è un patatino bello, bello fresco. Senza dubbio. Che meraviglia. Oh, come sei bello. Il bordo del prato. Gigi, ti meriti proprio un video. Ma che fungo. Ma che... Fungo. Madonna, ma che è Dulis. Spettacolo. Ma che bello. Col fratello, ovviamente. E questa non è fatta. Anche quello lì c'è un gambo, che è? Nezza. Dai, come... Sono freschi come il latte appena monti. Ah, vai che è caldo. Vai. Vadi, vadi. Sì, ora là c'è il Gigi che pulisce i suoi. Qua così ci sono tre bombolotti spettacolari. Mi sa che si ripreparano. Si ripreparano. Allora, Ricci... Prego. 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 Questo è merito di Ricci, eh. Guardate che... Che funghi. Cioè, una cosa mai... Madonna. Mai visti, no? E penso che sia un estivalis. Sì, sono stato... Guardate. Perché da piacere. Ricci. Sì, ci... Cicci. Dio mio, va che stivali. Quello dall'altra volta era bello, ma questi due lo mi staccolo battono. Guarda via i ciappi. Prendi. Ma falli proprio girare, che fanno anche belli. Posso. Mamma mia. Guarda, sono tre. Giura, quattro vetti, veramente. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Eh, da l'ho messo non ti piace. mamma mia entro nel second allora vabbè grande Cici meno male che mi ascolti questo è perfetto una pallina guardate che statini madonna guardate che fungo madonna ma che pancia uno qui e un altro qui si sotto quel tronco lì ha trovato sto patatone qua bellissimo qua così adesso però c'è un altro bel patatone che va filmato anzi no ostrega attaccato al sasso arrivo oh che bello bel patatone in mezzo alle formiche vada via e ci ha oh che bello si si folotto che bello e anche questo è un tretti buoni non l'ho filmato mentre lo raccoglievo perché era un punto un po' brutto guarda che fungo a quest'anno le alpi ci fanno divertire va che tarelli speriamo che continui così ciao ciao come dicono Olli e Marco la montagna arranca ma va che che affari che saltano fuori mamma mia uno qui e uno che mi fissa da lassù più bello di così e lo si vede da un chilometro tac va che splendore e anche questo non scherza va che bello bello il colore e la cosa più bella è che non è solo ma è ben accompagnato ci sono le spie e qua ci sono i fratellini ma che bello il bombolotto ma che bello i pinicola bello ma la star è questo qua questa è la star teo ma che fungo ma che ragno anche si che pinicola ad agosto bella roba dai ma guardate che pinicola ad agosto cosa ah sto facendo il video che pinicola che giocata doppio passo che belli guardate cosa sta uscendo due quattro un altro cinque davanti di lì ce n'era uno tutto mangiato tutti i bocciolottini lasceremo giù vedremo questi qua magari li tiro su